Gardoni, che la restituisce ancora ad Alessandro, dal vertice, il cross di Alessandro, ci parla Tomassini di testa, resta lì il pallone, allora Gardoni, in mezzo per Alessandro e la rete della Samb, la sblocca, Tomassini, buona la palla per Tomassini, di Arrigoni, Tomassini solo contro Palumbo, c'è il fallo, calcio di rigore, netto, atterrato Tomassini, cartellino giallo, stavolta per Guarino. Parte la rincorsa di Arrigoni e la palla in rete per il 2-0 della Samba, Andrea Arrigoni, c'è Barberini da quelle parti, palla dentro per Romerone di Tacco, la palla perfetta, il 3-0 della Samba. Finisce 3-0 per il rosso-blu, Tomassini, Arrigoni, Pagliari.